Nel luglio dello scorso anno la DIA e la Guardia di Finanza di Reggio Calabria, grazie all'operazione Planning, avevano dato corso a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 12 persone, 8 in carcere, 4 agli arresti domiciliari, gravemente indiziate a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno, associazione per delinquere, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio, trasferimento flaudolento di valori. Tutti comunque aggravati dalle modalità mafiose e avevano anche sequestrato numerose imprese sia in Italia che all'estero, 31 unità immobiliari, quote societarie, disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 32 milioni di euro. Le indagini però non erano concluse e ora sempre la DIA e le fiamme gialle regine hanno provveduto ad applicare la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria nei confronti di una società per azione con sede nella città di Catania. Il noto marchio operante nel settore della grande distribuzione alimentare è presente con oltre 100 punti vendita sia in Calabria che in Sicilia, con un fatturato annuo di 900 milioni di euro e 2.500 dipendenti. Queste ulteriori indagini avrebbero permesso di accertare che l'azienda intratteneva un rapporto stabile con esponenti dell'Andrangheta o collusi con questa. In particolare sarebbe stato accertato che l'edificazione e la ristrutturazione di alcuni punti vendita presenti in città e nella provincia del capoluogo Reggino sarebbero avvenuti attraverso imprese formalmente intestate a prestanome ma di fatto gestite da imprenditori contigui alla criminalità mafiosa locale, facendo anche in maniera indiretta l'arricchimento delle consorterie criminali. Da qui la necessità di limitare l'ingerenza della criminalità nel tessuto economico calabrese disponendo all'amministrazione giudiziaria per un periodo di un anno.